Mentre Crocetta va a fondo, noi facciamo il fondo. Con queste parole il portavoce a Lars Giancarlo Cancelleri ha presentato l'iniziativa sul microcredito, una legge ha proseguito che parla nisseno perché il tutto è nato proprio a Caltanissetta. Si tratta di un fondo per il microcredito siciliano al momento di 3 milioni di euro per le aziende e le imprese, creato grazie ai deputati del Movimento 5 Stelle che hanno stipulato una convenzione con Banca Etica e Impact Hub Sicilia che ha canalizzato parte del loro stipendio restituito in un vonto di garanzia che finanzierà le imprese purché eticamente compatibili. È già possibile inviare le stanze per accedere al credito. Le somme erogate vanno da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 25 mila euro con tassi agevolati. Non abbiamo voluto fortemente l'istituzione di questo fondo. Ci avevamo provato con la regione, non è stato possibile perché il fondo seppur istituito è stato sempre bloccato però per indoppi burocratici di natura politica e per opportunità diciamo elettorali. Troppe elezioni ci sono state quest'anno e per troppe volte il Presidente Crogetto ha pensato bene che non era il momento di dare questo assist politico al Movimento 5 Stelle. Allora abbiamo fatto un'interfaccia con gli istituti di credito e alla fine abbiamo scelto di collaborare con una fondazione Ollus di Messina, la fondazione di comunità e con Banca Etica attraverso i quali oggi si è materializzato quello che abbiamo definito il microcredito siciliano. Cioè la possibilità attraverso i fondi Jeremy che sono circa 3 milioni messi a disposizione da Banca Etica di fare finanziamento microcredito al tasso dell'1,6% a tutti quei commercianti o piccoli imprenditori, artigiani, comunque chiunque si occupa di attività produttive o semplicemente giovani che hanno un'idea e vogliono aprire una nuova azienda di avere un microcredito che può andare da 5 fino a 25 mila euro, ripeto al tasso dell'1,6% senza alcuna garanzia. Perché senza alcuna garanzia? Perché la garanzia siamo noi, è il nostro milione di euro frutto della restituzione dei nostri stipendi, di parte dei nostri stipendi che in 14 alla regione siciliana abbiamo messo in poco più di un anno da parte e che quindi rappresentano la garanzia. Il commerciante quindi accede al credito, ha ad esempio un prestito di 10 mila euro, se poi per dei motivi particolari non riuscisse a onorare questo debito che ha nei confronti di Banca Etica interverrebbe il fondo di garanzia, cioè il nostro fondo che andrebbe a coprire praticamente le spese che doveva sostenere lui.